Da Fregenia a Sperlonga, passando per Anzio e Nettuno, sono 10 tratti di mare fortemente inquinati nella nostra regione. Secondo Goletta Verde, i concili per i bagnanti raccolti dalla nostra inviata, Rossella Santilli. Cariche batteriche per 12 campionamenti su 24, ma 10 punti della costa laziale sono fortemente inquinati. La colpa da nord a sud dell'inquinamento microbiologico sono i canali e le foci per cattiva depurazione o per scarichi illegali. Il monitoraggio della Goletta Verde non si sostituisce ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità dei depuratori regionali. Per fortemente inquinati si intendono i punti in cui gli enterococchi superano più del doppio il valore normativo. Ed ecco la lista nera dei fortemente inquinati del Lazio. Il Lido di Tarquinia alla foce del fiume Marta, Marina di Cerveteri al fosso Zambra, Fregenia alla foce del fiume Arrone, Torvaianica di fronte al canale Crocetta, Ardea alla foce del rio Torto e a quella del fosso Grande, Anzio, foce del fosso Cavallo Morto, Nettuno al canale Loricina, Sperlonga all'altezza della spiaggia su via Cristoforo Colombo, Scauri alla foce del rio Ricillo. I bagnanti rischiano? Il consiglio è sempre quello di allontanarsi dalle foci dei canali ma anche di quei piccoli rivoli che arrivano in mare assolutamente tenersi più lontani possibile, soprattutto da quelli che poi riusciamo a segnalare e a rendere noti come carichi di escherichia coli e di enterococchi intestinali, che sono parametri microbiologici di diretta derivazione della fece umana. Insomma questa battaglia per il mare pulito nel Lazio non si riesce a vincere? Ci sono anche miglioramenti, quando noi abbiamo segnalato per 15 anni il rio Santa Croce a Formia come fortemente inquinato, quest'anno per la prima volta è soltanto inquinato. E queste sono le nostre immagini registrate proprio davanti al rio Santa Croce a Formia il 16 giugno scorso. Legambiente chiede a gran voce ai comuni di mettere in campo azioni concrete per riqualificare il proprio mare. Questi dati della goletta verde non sono una pagella ma un grido d'allarme, agire presto.